Allora, si comincia, la prima è Stefania. Una cortesia, i suoi devono salire solo nel che consiste di Stefania. Quando si cambia, cambia la nuova che ne consiste. Attenti, volete ballare fino qua, Massimo qua, ok? Possiamo usare sia questa piattaforma che questa, ok? Vai, cominciamo, buon divertimento! Allora, buono di gruppo! したi! Grazie a tutti 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 Grazie a tutti